Non possiamo più acconsentire a inquadramenti inadeguati rispetto alla modernizzazione del sistema. Siamo in assenza di un modello di inquadramento nazionale, in cui le aziende sono giunti a proporre di riservare indemnità soltanto a chi occupa determinate posizioni. Occorre una riformulazione completa di questo capitolo contrattuale. Il ruolo del sindacato nazionale è fondamentale. Si dovranno creare figure professionali adatte alle nuove esigenze del settore, consulenti, addetti alle vendite, esperti di prodotti finanziari assicurativi, ma tutti adeguatamente tutelati. Il dibattito non potrà limitarsi alle figure ibride, metà promotori, metà impiegati e soprattutto le strategie messe in atto non potranno restare iscritte nel breve periodo.